Lei di Diana sarebbe orgogliosa delle nuove Meghan Markle e Kate Middleton. Ad affermarlo è Sarah Ferguson che, avendo conosciuto bene la mamma di William e Harry, è sicura che avrebbe appoggiato e condiviso le scelte sentimentali dei figli L'ex moglie di Andrea di York, e mamma di Eugenia e Beatrice, ospiti di Good Morning Britain, ha dichiarato, sarebbe fiera Avrebbe pensato, non posso credere che i miei ragazzi stiano facendo così bene Se Diana fosse qui, ha aggiunto, sono convinta che abbraccerebbe Meghan e Kate, e direbbe loro, sta andando tutto per il meglio Lady Diana è sempre stata orgogliosa di William e Harry a cui ha sempre cercato di dare un'infanzia serena e felice e di trasmettergli i suoi stessi valori ed è per questo che Sarah Ferguson, presente alle nozze di Harry e Meghan, ma assente a quelle di Kate e William, è sicura che avrebbe dato la propria benedizione ad entrambi Meghan Markle e Kate Middleton ha i ferri corti? Entrambe bellissime e molto amate dai sudditi inglesi, Meghan Markle e Kate Middleton rappresentano l'immagine della famiglia reale inglese Le due cognate, nelle poche uscite pubbliche di cui sono state entrambe protagoniste, hanno sempre dimostrato di andare d'accordo Dall'Inghilterra, però, arrivano strani rumors secondo i quali rapporti tra la moglie di Harry, incinta del primo figlio, e quella di William, mamma di tre royal baby, non sarebbero più idilliaci come agli inizi al punto che i rispettivi mariti, per evitare inutili tensioni, avrebbero deciso di dividere ufficialmente i loro appartamenti a Kensington Palace Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like